Questa arma è OP Breath of the Dying Oggi vediamo una delle armi più forti e allo stesso tempo più complicate da utilizzare in Borderlands 3 Vedremo a breve perché Il Breath of the Dying è un assalto leggendario dal solo ed esclusivamente corrosivo E il suo effetto è il seguente Quando andate a sparare saranno sempre colpi corrosivi che non possono causare effetto di stato 0% di possibilità Quando però andate a fare una kill Dove il nemico è stato ucciso Avviene una sorta di esplosione e un anello di 13 sfere di energia Nasce in quel punto e inizia ad allargarsi in ogni direzione Sfere che andranno a viaggiare in linea retta all'altezza a cui sono state generate Quindi alla testa del nemico O al corpo in base a dove è stato fatto l'ultimo colpo che l'ha ucciso E esploderanno al contatto con qualunque cosa Un nemico, un muro eccetera Non con voi Però attenzione Perché? Innanzitutto il danno di quelle sfere di energia sarà 18 volte il danno che ha ucciso il nemico Quindi se fate un super colpo caricato con invisibilità di Flak eccetera eccetera Quelle sfere faranno molto più danno che eliminare un nemico che ha 3 di vita e gli avete dato il colpo finale Quello è il problema però Quando queste sfere toccano una superficie come vi dicevo esplodono Le sfere di per sé non vi fanno danno L'esplosione delle sfere sì Quindi se siete vicino a un muro e eliminate un nemico le sfere vi attraversano senza farvi nulla Toccano il muro dietro di voi esplodono e voi finite a terra Perché il 99% dei casi quelle sfere vi faranno danno talmente alto che vi eliminerà tutto l'oscuro e tutta la vita in un colpo solo Ecco per questo è un'arma molto complicata da utilizzare Non tanto perché sia difficile sparare o far danno Ma perché dovete calcolare continuamente in che direzione saranno le sfere A che altezza, se avete dei muri intorno, se avete un nemico vicino, se avete una scatola davanti Eccetera per cercare di evitare di finire a terra continuamente Ora nel video magari vi starete accorgendo che il danno non è un granché Questo è perché lo sto utilizzando letteralmente con il peggior personaggio per quest'arma Moz E comunque è così forte Ora immaginate Se questa cosa stessi facendo con Flak o con Zane Che sono le cose migliori Con Amara non la consiglio molto perché se Tirate su un nemico con l'abilità lo paralizzate Lo eliminate E poi i colpi esplosivi di quest'arma saranno tutti all'altezza di quel nemico Quindi più in alto di ogni nemico e non lo colpirete Ora Dove potete ottenere quest'arma? La potrete ottenere a Desolation Edge A Necrote a Feio Alla caccia leggendaria di Hammerlock Andando ad eliminare la Blending Machine 10% di drop rate Quindi nulla di che è abbastanza facile Per quanto riguarda il Godroll Ci sono ovviamente delle parti variabili Quindi il Godroll sarà un'arma che Secondo me 72 Chaos 10 Ha un danno di 46.609 Molto consigliata Molto divertente da utilizzare Durante la storia l'avete vista nella RAM veterana È un'arma ignorante